Ho prenotato un volo, parte domani mattina presto. Che succede? C'è stato un incidente. No. Tua sorella è in ospedale. Che tipo di incidente? Dimmi cosa è successo. Non entrare in quella casa. Tutti quelli che sono stati dentro quella casa sono morti. Mia sorella è morta. Perché? Che cosa vuoi? Vi prego, fermatevi. Mia sorella è morta.